Più di 200 profughi ucraini accolti soltanto dalla Caritas di Avellino, uno sforzo importante per un popolo martoriato nel cuore dell'Europa. A un anno dall'invasione russa in Ucraina, Don Vitaliano della Sala ripercorre questi 12 mesi di assistenza e solidarietà e racconta anche come donne e ragazzi in fuga dalla loro terra si siano integrati ad Avellino. Mai negare l'accoglienza, anche tanti cittadini irpini hanno dimostrato il loro gran cuore aprendo le porte delle case a chi scappava dagli orrori della guerra. L'anno scorso molti più che dire si auguravano che durasse poco, ma stiamo a un anno e non se ne vede la fine purtroppo. Immediatamente si sono aperte case, case canoniche, parrocchie, ma anche case di cittadini privati che hanno messo a disposizione le loro abitazioni. Anche lì sperando che fosse per poco, ma nessuno si è ribellato al fatto che stiamo da un anno e queste persone sono ospiti nostri da un anno e mi sa che dovremmo ospitarle ancora per tanto. Non è semplice vivere una situazione del genere, non è semplice nemmeno dire una parola buona, assistere. Insomma c'è tanta forza, tanta energia in queste donne, però sapere qui da lontano che tuo marito è morto in Ucraina e non puoi piangere nemmeno su un corpo, insomma vi lascio immaginare la tragedia.